Big Mat Cubex oggi è una realtà con tre depositi nella provincia di Catania, nell'Interland catanese, nasce negli anni 60 con i miei genitori, nel 2019 si è andata a far parte della famiglia Big Mat, oggi abbiamo quasi 60 dipendenti, un fatturato di circa 25 milioni di euro, spaziamo all'edilizia da termoidraulica, edilizia generica, edilizia pesante e coperture. Per un prodotto come il cemento il brand conta tantissimo, oggi noi siamo da sempre rivenditori a Heidelberg prima i talcementi e viene riconosciuto la qualità e la bontà dell'azienda e del prodotto dal mercato. Il cambio di nome dai talcementi a Heidelberg Materials non è stato così difficile da far accettare ai clienti, perché comunque il cambio è stato indolore. Oggi tutto quello che è sostenibilità è molto compreso dal mercato, dalle aziende, dalle imprese, anche perché ti garantisce di entrare in certi capitolati dove sei obbligato ad avere cementi che abbiano una sostenibilità alta e questo Heidelberg oggi riesce a darlo al mercato. Big Mat Cubex e i clienti di Big Mat Cubex scelgono Heidelberg perché garantisce una qualità di prodotto che altre aziende non riescono a garantire.